Il meraviglio di tanta attenzione che avete per questa cosa. Come l'anno scorso anche, le riprese si potevano fare, perché quest'anno no? No, no, le avete fatte liberamente, nessuno vi ha detto. No, no, non vi ha cacciato nessuno. Sì, siamo stati cacciati. Allora, questo non è un matrimonio, è una messa, quindi le messe dovevate avere un poco di rispetto nei riguardi della celebrazione. Eh sì, perché non è un matrimonio che si fanno feste a fondo. Ok? Non c'entra niente nella politica. Voi, con il rispetto a collinezzare le cose, questa è una cerimonia di commemorazione, una messa di commemorazione alla quale bisogna assessere con il rispetto. Ma perché l'anno scorso le riprese si potevano fare, quest'anno no? L'anno scorso io non lo so, se successe poi non sono responsabile di questa cosa, vi invito solo ad avere un atteggiamento corretto, almeno nei riguardi della chiesa, nei riguardi della messa, nei riguardi della cerimonia. Voi fate solo speculazioni, adesso andatevele a vendere ai vostri padroni, voi siete solo dei prezzolari. Ma che cosa stiamo facendo? Non si permette, non si permette minimamente! Andate un po' ragazzi, andate un po', andate un po', andate un po', andate un po' a rompere il culo, andate, 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 poi per provocare l'altro. Sì, si permette di fare questo via! Mi svolte di andare! Francesca! 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 Lasciate il verde, sono di Francesca! Oh oh oh! Francesca! Francesca! Lasciate il verde! Andate, andate! Questa è la vostra democrazia eh! Questa è la vostra democrazia!